Hi people, qui è Green e bentornati in questo nuovo video Siamo su questo gioco che si chiama Night Blights Rinomenato anche da me Night Blah Si trova su Steam, a caso A caso, a random E ci sono i Gremlins Ragazzi sì, ci sono i cazzo di Gremlins Quindi iniziamo con il gameplay Oh, ci stanno le istruzioni, raga Skip, 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 skip No, che cazzo è, oh Vabbè, ci sono questi animaletti del cazzo che vanno in giro Sono dentro le scatole Lui è Octodead Vabbè, andiamo con i giorni della settimana qua, Monday Allora, lunedì Safe in your bed Oh, madonna mia, che ansia Vabbè, questi qua si nascondono ovunque, c'è capito The end, thank you Goodbye Buona Eh, grazie Eh, vedi, eh, eh, tu play Monday night, vai, vai Oddio, che è? The night play under your parent's bed Oh, sì Ma che cazzo Oh, madonna Ce ne vanno via, quelli No, boh The night play under your... Cioè, tu siamo... Che cazzo siamo? Noi dobbiamo salvare tutti da... Da sti cazzo di cose, mi sa No, nel frigo no, è il peggio, cioè Ma comunque ha fatto bene La madonna Bisogna lasciarlo chiuso Se vogliamo sopravviare la notte Bella lì Il frigo Il frigo Solo il frigo Abbiamo quattro guardaroba in giro per la casa Proteggi la tua famiglia Buona fortuna Ma fuck Poi noi che cazzo siamo? Noi siamo dei bambini, cioè La madonna, c'ha già il piatone Fatto bene Ma siamo strapiccoli Mi posso abbassare? Ma siamo strapiccoli Siamo a gattoni, mi sa Oh, sì, ci stanno le prese con le faccine Sì, però Siamo a gattoni, mi sa No, no, non siamo a gattoni Sì, cazzo abbi, sei ando come le spine Cazzo Si, come Ha parlato la faccina? Della madonna È chiusa, chiusa È chiusa, è chiusa Vabbè, ho capito Niente che gli serve Non fare questo mouse così Metti la risoluzione più bassa, vosso Chi capisce un cazzo? I can't Ok Porco due Madonna che ansia Questa? Perché è chiusa Si Fiiiit meee Cazzo dici? Tua madre, quella tro... Corri che spacca eh Dovevi salvare queste qua da... Ok, buonasera Can I sleep? Posso prendere? Cazzo... Si si puoi prendere Oh... Vuole... credo che vogliono i cazzo di giochi questi eh Fiiiit meee Needs to be a feed... a feed... a toy Si vogliono i giochi Tieni Ben Wansom Wansom Play with me? No What? Dai cazzo di Gremlin, sei a mezzanotte dai Daglielo meglio, daglielo meglio Daglielo meglio Wansom 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 Si cazzo mangiano i giochi Si mangiano i giochi, ok Buonasera si Rispondi rispondi Si si No one is available to take your call Please leave a message Uh, hey Murky Uh, haven't seen you in a while Uh, hope everything's going well Uh, just wanna let you know Valla and I We're thinking about going camping soon And it'd be great if you could come along I know it's not really your thing But uh, we really need you to come camping with us Uh, instead of whatever it is Vabbè dai ce ne fottiamo il cazzo noi Nooo Guardate qualcos'altro che si può prendere Running makes... Oh Feed monsters under bed Shutter World Bed Che cazzo è? Non devo aprirlo credo Nooo Nooo Ecco c'è morta la sorella Vabbè dai Vai 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 Speedrun speedrun Oh, guarda c'è un altro giocattolo lì Eh, devi prenderlo te Oh lì c'è un altro Ehm Where are you man? Ma lì sotto No, no, non c'è Guarda Ma non c'è Dove sei man? Ah qui 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 sotto qui sotto Ehm beh Forse non gli piace sto gioco questo Ciao figliolo della m***a Ah adesso c'hai fame eh Maledetto Ma yami yami cosa dai Dai stai molto Sopra sopra ci stanno a schiatta i cosi I genitori vai 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 Ci muore la madre Ti salvo io Eccole 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 Mustard Buonasera Prego Mangi Bella Bella lì No Assassin's Creed Che cazzo frate non puoi tagliare dai Ehm Niente si bugga Che cazzo è? Che cazzo è? Hi Wansom Orange juice Chiudi sta m***a bastardo Quello lì devi solo che tenerlo chiuso dentro Allora Brachy Prova andare su Lui è il mio amico Brachy Ehm Volevi Cazzo vuoi E dopo quando mi finiscono i cazzo di giochi raga Ah ah C'è qui uno No no devi andare su Tieni vuoi il coso di pacman Deve andare nella altra stanza Oh Si è aperto qua qualcosa Chiudi Bastarda Che sta m***a Una tonda ma Chiudi anche questa Una tonda che alza se Oddio Oddio Quando cazzo è comparso sto cosa Aiutami tu Oh E' quell'uccellina del cazzo Quello lì assatanati dai Oddio mio Ciao brutto Cinese Raga non ho più giochi Toh vuoi una zucca? Ti piace la zucca? Oh raga è Octoded Rispondi rispondi No one is available to take your call Please leave a message Oh Fuck Tua mamma Oddio Tua mamma qua sorca Ma qui io non ho più giochi raga Oddio guarda la finestra Perchè? A destra Guarda Good morning Cazzo è andato giù Siiii Me E mo? Capito tu madre Io non ho più giochi Gli ci sono giù ci sono Ah ecco ecco Sgabello sgabello Oh sgabellino Sgabellino è un gioco No lo serve per spostare con io Ah si? Eccoci Sii c'ho quelli satanati Ah vai lì c'è un altro Lì c'è un altro per fare pieno di giochi Sopra sopra che mi stanno a morire i genitori Mi stanno a morire No take Oh lì sta uscire Lì c'è uno no Qui ce ne sarà un altro Prendi 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 Take Take Ok Asorella asorella Frigo apposta apposta Asorella asorella Ce n'hai due qua Ma starli Close close Sono alle sei raga Sono alle sei alle sette e finisce Oh Oh shit Oh shit close Madonna Oddio c'è un'altra scritta Non voglio vederla No no guardala Guardala Guarda la scritta qua Ah no è sempre quella Retarded Dai Dai Non ci arriverei mai Eh vabbè dai Anche avere le Anche Diventa anche monco Oh figlio di pittana Ragazzi il primo giorno è finito Con l'ansia e le scritte sui muri che devo morire Crescerà un figlio traumatizzato Martedì lo vedrete nel prossimo episodio Bella ragazzi Bella ragazzi Dovete mettere like Iscriversi al canale Fare blu 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 Mentre guardate il video E di passare nel link in descrizione Goodbye Ciao 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 Grazie a tutti.